Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. L'aumento dell'IVA dal primo luglio, che passerà dal 21 al 22%, costerà in media 103 euro a famiglia in un anno. La stima della CGA di Mestre indica per il 2013 un aggravio complessivo di 2,1 miliardi che arriverà a 4,2 miliardi nel 2014. Disposto dalla procura di Siena il dissequestro dei beni congelati a Nomura e gli ex vertici della banca Monte dei Paschi. GIP Bellini ha così respinto il decreto di sequestro emanato nei giorni scorsi per circa 14 milioni e mezzo di euro. L'ultima occasione per la pace in Medio Oriente è che Israele si ritiri dai territori occupati e che non gli appartengono, è quanto detto da Abu Mazen, presidente dell'autorità nazionale palestinese, si trova a Napoli dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Nuovo episodio di aggressione e danni in una bimba in India. La piccola è stata trovata con la gola tagliata. La bambina di 6 anni, abbandonata in un bagno pubblico a Nova Delhi, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e le sue condizioni sono stabili. Torna in carcere il boss mafioso Bernardo Provenzano dopo il ricovero di venerdì. Provenzano era stato trasportato in ospedale a Parma per eseguire alcune analisi in seguito a uno sbalzo di pressione. Giallo in provincia di Cagliari. In una casa diloccata a Settimo San Pietro sono state ritrovate ossa umane in un sacco. La macabra scoperta è stata fatta da un pensionato, padrone del rudere, al quale potevano accedere tutti. La macabra scoperta è stata fatta da un pensionato, è stata fatta da un pensionato, è stata fatta da un pensionato.